Sabato 19 febbraio, Centro Convenienza arriva in Calabria. Offerte strepitose che solo un grande gruppo può offrire. Pagamenti agevolati e una scelta vastissima per arredare tutta la casa. Una nuova grande apertura presso il parco commerciale Le Fontane a Catanzaro Lido. Non mancate, siete tutti invitati. Centro Convenienza, il bello che costa poco.